Buonasera a tutti da Locusabar, che sarei sempre io, sempre me, niente di nuovo sul sol sole, siamo con Nolen, che è un autore franco belga, più franco che belga, penso sia francese, sta guardandola, Richard Nolen, che questa è un'opera del 2019, che viene, sono tre volumi, stavo guardando quando erano state pubblicate, il robot fantasma, il soffio del condo, il 19, 20 e 21, disegni di Mazza, questo è l'autore di cui parliamo stasera, l'autore abbastanza Richard Nolen, ovviamente è nato Richard Nolen, non mi ricordo più, vediamo, biografia, si chiama Olivier Raynaud, è un rivain traducteur antologiste, buonasera, sono la signorina Okusaima, antologista, nato nel 1955 e ora si è nel Quebec, ma comunque in Canada parlano anche francese, quindi stiamo parlando della Cosmo, siamo sempre io, siamo sempre in piano di dire, e siamo con Bund & Waffe, con uno spin-off che è stato pubblicato dalla Cosmo al prezzo strabiliante di 7,90€, mi direte, come al solito i disegni sono piccoli, eccetera, eccetera, però i disegni del bosniaco Mazza ricordano molto, come ho già detto, flitway o supereroica, ovviamente qui l'introduzione di Andrea Rivi ridotta molto all'essenzialo, Underwaffen è una serie ucronica indirata da Nolen, Roberto Nolen, boh, la memoria mi sta abbandonando, Richard Nolen, te la dici, vabbè, Richard Nolen, stiamo a sottorizzare sui nuovi, nomina su un conseguenzia rerum, ma adesso un conseguenzia nominum, dicevano, i nominalisti del meglio evo che voi tutti, certo, la sera più addormentati, vi chiedete, ma nomina su un conseguenzia rerum, e quindi io me li invento a cazzo di cane, dice qualcuno si lamenterà, tra l'altro tutti mi sfruttano, di tanto la gente viene da me come se fossi l'oracomo di Delphi, che io abbia tutte le risposte, tutte le cose che sono successe nel mondo da quando Dio ha creato Adam ad oggi, qualche cosa mi è sfuggita, al vissend bin ik nicht aber will is mir bewusst, diceva Mefistof, aber will is mir bewusst, cioè, molte cose sono piadute, e in un altro mi arriva, ma, diciamo, tanti del tentano, oh, calmo, e va bene, parliamo di Wunderwaffe, Wunderwaffe che in tedesco vuol dire armi meravigliose, come me, il mio splendore, la mia bellezza, con turbante, ma oggi sono senza turbante, ma tutta la grucia, oh, perché non parlo di Zyron, voi vi chiedete perché non l'ho comprato, non l'ho comprato, ho preso Batman oggi, nel senso non vabbè, ho preso Batman, e vi scelto, vi faccio vedere varie cose, questa è Wunderwaffe, la prima storia, l'ubotto fantasma, si riallaccia a Martin Misteri, non a questa, ma a una storia della Bermuda, in cui Martin Misteri è recente, infatti la cita Andrea Vivi, perché il protagonista, ma vi faccio vedere i disegni di Masa, che sono veramente belli, ovviamente il triangolo delle Bermuda, c'è una sorta di investigatore, di Martin Misteri, non nazista, ma tedesco, lui non è proprio nazista, ma insomma lavora per un coso, lì come si chiamava coso, un rifiuto mentale, vabbè, sì, è un coso, quello che, Imler, Imler sì, quello che poi, vabbè, insomma, Imler, Imler, che sarebbe questo qui, che ovviamente è molto divertente, perché naturalmente è ovvio che i Wunder, c'è Nolen, Roberta, 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 rovescia, un po' gli stereotipi, nel senso che in questo caso sono i nazisti, c'è un investigatore nazista che si chiama, appunto, che non lo ricordo io, secondo voi, si chiama appunto, Richard Wolfhard, che è un Corvetten Capitanen, qui, che è un po' la sorta di Martin Misteri, che viene assediato, assoldato da, da coso sempre lì, da Imler, sempre lui, scusate, Imler, non mi riesco a memorizzare, c'è una difficoltà a memorizzare i nomi nazisti, e c'è chi ci riesce bene, io invece mi tendo a, come dire, a rimuoverli, non so perché, adesso non si conosce, non lo voglio dire, io avevo avuto uno sfogo, insomma, perché, si arriva all'otto marzo, ma molte donne, anche la vicinità di Amas, di cui non fregono la cippa a nessuno, certamente agli italiani e agli ebrei frega, però, diciamo, al resto del mondo, poco e niente, anche se l'ONU ha, accertato, con una riuscione, ha accertato, che sono stati compiuti, crimini sessuali, di violenza, mutilazioni antisessuali, eccetera, eccetera, il 7 ottobre scorso, lo so che non frega molto a nessuno, però, chissà, però, è una cosa, vabbè, forse un giorno ci farò un video, anche perché, tanto è inutile, credo che, siamo, io che il 90% delle persone, siamo su lunghezze d'onda diverse, io sono un'onda, ma questo è un'altra stanza, torniamo a Wunderwaffe, i disegni di Amasa sono molto belli, no, divertente, è una sorta di Martin Misteri, sono tre storie, la prima, ovviamente, affronta il triangolo, delle Bermude, è una storia molto, cioè, questo ve lo consiglio, a parte, voi direte, ma di Sennyson Peaks, avete già letta, perché è del 2019, quindi, magari qualcuno l'ha già letta, la terza è in fieri, la prima, appunto, il triangolo delle Bermude, il secondo, la ricerca dei mitici progenitori alieni, nell'Atlantide, eccetera, eccetera, a Tiwitaka, a Tiwitaka, a Tiwitaka, a Tiwitaka, a Tiwitaka, e questo è Imler, è ovvio che è buffo, perché nel senso che, nel senso che, in realtà, è verità, cioè, ovviamente, vabbè, questi sono degli spin-off, cioè, si ricollegano alla serie principale, le Wunderwaffen, ma sono degli spin-off, che si possono leggere staccati, quindi, si ricollega alla serie principale, che è ovviamente ispirata a Filippo Diccio, certamente queste cose, oggi potrebbero andare molto di moda, perché sono antisemitiche, fregate, se ne dico, il signor Gioseria fregate, insomma, antisemitismo di destra e di sinistra, quindi, insomma, gente che, gente, vabbè, quelli di destra sono antisemiti, da sempre, ebbene, sì, Gesù l'ho contraddito io, e se eravamo io nell'albero dei Gexè, non eravamo, l'ho tradito io, lo confesso, subito, ho stato io, ho stato io, ho stato io, sono io, sono io, le tre di tre terre, vabbè, no, ma naturalmente, questo è un fumetto, si riaffa, si faccia, ovviamente, se non avete mai letto, la sbastia sul sole di Diccio, leggete, non è neanche fantascienza, c'è un testo cronico, cronia vuol dire, un sviluppo temporale, che non si è verificato, tipo Napoli, non vince a battle, che sarebbe successo, voi potresti darvi, ovviamente, la pazza gioia, cercando di capire, che cosa avrebbe potuto fare, Napolino, dopo, sta guardando, sta copertina, molto interessante, molto clickbait, ecco, stavano tutti a guardare, l'aereo dietro, la personaggio in primo piano, non ci interessa, tutti stiamo a guardare, la decorazione, l'aereo dietro, Angel Wing, fra un mese, Angela McCloud, tutta la seconda guerra mondiale, spazio avventura, ovviamente, Wunderwaffen, è una serie, che riappare, come i summergibili, triangoli delle Bermude, dove le navi scompaiono, e riappaiono, dopo 30, 40 anni, esattamente, veramente, rimanda, ora, non so, se può darsi, che, Richard Nolen abbia letto, Marche e Misteri, perché le storie, in realtà, poi, noi siamo noi italiani, noi, non abbiamo, noi abbiamo avuto, un grande genio, come Martelli, Castelli, e Martelli, e non li valorizziamo, questi geni, perché non li valorizziamo, veramente, nella Francia, nel Belgio, e in Cannes, autori, come Nolen, sono valorizzati, perché vengono considerati, portati in palmo di mano, noi no, noi siamo, 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 dei cialtroni, insomma, in realtà, quindi, avessero avuto loro un castello, l'avrebbero, 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 in realtà, questa storia, ricorda molto, Martini Misteri, secondo me, Richard Nolen, ha letto Martini Misteri, perché Martini Misteri, è un classico, della fanta archeologia, tra l'altro, si diceva Von Daniken, il, il, comandante di corvetta, che non mi ricordo, va a Vander, Wunder, Wunderbar, Wunderbar e Wunderbogen, non è proprio quello, il nome, ma questo è Martini Misteri, la vecchiaia, è la vecchiaia brutta bestia, Wolfard, Wolfard, secondo me l'ha letto, perché ci sono dei chiari riferimenti, a Martini Misteri, chiaro, a verde, Martini Misteri è un fumetto, quelli di, dei testi fatti da Castelli, gli uomini in nero, sono dei testi, veramente, di un livello altissimo, che io leggevo negli anni Ottanta, ma non erano molto valorizzati, nel senso, eravamo un gruppo di persone, pazzoidi, che leggeva sta roba, considerati dei poveri deficienti, come al solito, da quelli, quelli alti, che volano alto, come il Condor Plaza, insomma, scusate, profeta Misteri, misticismo, no, e qui vediamo, invece, in Francia, Castelli sarebbe stato portato alle stelle, l'ho già detto mille volte, e si sentono, io ho avvertito, nel primo, qui è un Ubot tedesco, che scompare, nella prima della mondiale, riappare, un po' di anni dopo, prima della seconda, viene inviato, ovviamente, Wolfard, a indagare, e ci sono delle oscure presenze, nel senso, poi non viene spiegato il tema, del mondo, ma poi si incercola, una caccia al tesoro, nel secondo volume, e stanno, questo vuoto, si scopre, da prima guerra mondiale, stava alla ricerca, di un tesoro, della guerra di secessione americana, quindi, vicennolenzi, è ben documentato, la lezione di Castelli, l'hanno capita in Francia, ma noi no, noi continuiamo, con Cigo, con le freccette, no, ma è bello, Cigo e Zago, che carità, non stava qui, però, ogni tanto, le freccette, vabbè, ma non voglio, vabbè, intanto, i Zago e Zago non li guardano, questi video, che mi sono apposto, loro appaiono solo, quando metto, una peltina di Zago, quindi, ne possiamo parlare male, internosso, a noi, non ci sentono, no, sono in altri canali, ma io non è che voi, però, voglio dire, non sono fumetti, parte di Sendi Masa, con spie tedesche, crudeli, e bellissime donne, anche se qui scende di niente, niente, no, non è, non è, contrario a queste cose, c'è un punto di contatto, tra, Wunderwaffen, e Zago, che ne devo dire niente, vabbè, non diciamo che Dago, invece gli argentini, sono più, ma questa è un'altra storia, e, però, di senso stupendi, quindi, la ricerca di un tesoro, che poi porterà, la ricerca dei mitici antenati, degli ariani, se sono, poi, italiani, non mi spoglio, di un'arma strasegreta, che potrebbe, stravolgere, sorti della guerra, e, ovviamente, è una storia molto bella, rimanda anche a quei libri, io ce ne ho qualche libro, degli anni trenta, su Atlantide, in caratteri gotici, perché io li leggo, per questo mi sfruttano a volte, quando le persone vengono a me, e mi dicono, ma nel 32esimo, canto la divina dell'inferno, e nel 32esimo, lo stai almeno, ma io l'ho letta, vent'anni fa, io, ma che ce l'ho a tutta, cioè, i primi cinque o sei canti, li sono a memoria, li posso citare a memoria, ma mira a tutti, però, vabbè, io sono come Ulisse, vengo sempre, vengo sfruttato agli agamenni ogni di turno, e mentre, come Ulisse, me starei tanto a guardare le caprette, me ne torno sul montagnato, a guardare le caprette, che brucano, questo è il mio sogno, segreto, ma come tutti gli Ulissi, sono costretti a viaggiare, da una parte all'altra del mondo, come Ulisse, un senso di orientamento, pari al zero, mi perderei, in una piazza, nel centro di Piazza, mi perderei, Ulisse ci ha messo dieci anni, dalla Turchia, arrivata da Itaca, che anche a piedi, ci mette un anno, io ci ha messo dieci anni, non so se, questa è una storia cronica, la Philip Dick, cioè, il primo Philip Dick è stato Mero, che cavolo cazzo fai, ha fa dieci anni, dove stai passato, da Cina, per fare dieci anni, devi passare, invece di andare verso l'Occidente, sei partito verso l'Oriente, sei arrivato in Iraq, in Cina, poi dal Giappone, poi sei andato in America, poi sei ritornato alle colonne d'Airfield, e ti dici, sei fatto la Sardegra, questa è l'unica spiegazione, per metterci dieci anni, potrebbe essere questa, forse l'ha sbagliato l'estero, secondo me Ulisse, ha sbagliato l'estero con l'Occus, cioè, ora andiamo, pensa a quei pori marinai, nelle sue mani, ora andiamo a Itaca, e come tutti ben sapete, è l'Ovest, è dove sorge il sole, e Ulisse, ma secondo me è l'Ovest, è dove tramonta il sole, Ulisse, io sono l'Ulisse, sono l'uomo più sapiente da terra, dopo dieci anni, è arrivato a Itaca, Ulisse, te l'avevo detto, che è l'Ovest, è dove tramonta il sole, te l'avevo detto, Ulisse, se la segnava, vabbè, sto reinterpretando, lo disse in chiave, in chiave, c'è altro, mi riesco a metafisica, no, quindi, no, questo è un momento che vi consiglio, perché sono storie molto, cioè, se vi piace Martin Misteri, se non avete problemi ad avere un Martin Misteri, che lavora per, non riesco a dirlo questo nome, il po' solo, il coso, quello che venne giustiziato in Israele, che sarà, Imre, ma io mi ci diverto, nel senso, poi ho ancora un ebrea, quindi figuratevi se, naturalmente, avrà ultimamente pare che, i nazisti siano gli ebrei, questa è l'ultima teoria, che veramente, se fosse un fumetto di fantascienza, la trovo, vabbè, vabbè, chi dice queste cose, vabbè, ma, 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 io non dovrei guardarsi allo specchio, e dire, ma che fregnaccio sto dicendo, e che la gente, io la mattina, appena a marzo, mi guardo allo specchio, e dico, ma che grandissimo coglione che so, e questa è la prima frase, che mi dica allo specchio, poi tutto il resto, viene di conseguenza, perché, detta questa, perché tutti siamo dei biscari, ma, alcuni sono biscari, però ignali di essere biscari, vabbè, questa è un'altra storia, dici, no, se non avete problemi, però io mi sono divertito tantissimo, anche perché rovescio un po' i luoghi comuni, sapete, l'eroe Indiana Jones, beh, contro i nazisti, qui, i nazisti, trasformare i nazisti in buoni, ovviamente, in chiave divertente, nel senso, non è che Nolenne, è un filo nazista, spero, spero, però io mi sono divertito, a leggere queste storie, anche perché, appunto, è un po' un rovesciamento, è un po' come nella fava di lupo, di lupo lucio, quello del fantabosco, la vecchiaia, cioè, delle cose che mi attraversano la mente, e sto, i miei video sono sempre più deliranti, no, dicevo, come te ne racconti, le fava di cappuccetto rosso, il lupo diventa buono, e il cappuccetto rosso è una stalker, che ti rompe le scatole, vabbè, comunque molto bello, ovviamente non vi spoiler la storia, ma comunque la ricerca, la ricerca di, Masciupicio, ricordo molto Martin Misteri, l'ultima storia, troviamo una nave americana, incastrata nei ghiacci, quindi secondo me, in questi tre volumi, c'è forse un omaggio a Castelli, ovviamente sono state fatte, prima che morisse Castelli, però, nel senso, essendo uno spin-off, cioè staccato dalla serie, centrale, si possono leggere, senza particolari problemi, perché appunto, a me piacciono molto, per la primavera mondiale, mi piacciono gli u-bot, mi piacciono tutte le divise, faccio vedere anche appunto, è ovvio che, ovviamente, in un tempo, quando dovevi fare dei fumetti, per questo, come ho fatto il disegno, ovviamente, le divise, io ho pubblicato un disegno, per questo divise, soldati della prima, cioè, quando prima dovevi fare un fumetto, ambientato anche nella prima guerra mondiale, dovevi andare a cercare tutte queste riviste, per vedere come cavolo erano, le divise del 1918, 19, 20 e 21, perché ovviamente, ogni esercito, c'è la sua divisa, ma non solo la divisa, cambiano, un grande esperto di questo, era Ugo Pratt, che insomma, capite, è una divisa di un ufficiale russo, degli anni venti, e, coso, cosacco, è un'altra cosa, qui sono riviste nazi, c'è anche il Paraguay, non so, non l'ho trovato su una bancarella, l'ho preso su, perché poi, ovviamente su internet, la Bolivia, non so come si possa utilizzare, un fumetto, un soldato alla Bolivia, però, ovviamente oggi, se vedo, vado su internet, faccio così, non so, divise, divise, divise prima guerra mondiale, prima guerra mondiale, ovviamente, trovo tutto, no, non in vendita, anche in vendita, quindi posso trovare, ovviamente, foto, eccetera, eccetera, ma, negli anni, posso trovare varie foto, eccetera, eccetera, mentre prima, era un po' più bello, insomma, dovevi andare in biblioteca, voglio dire, Google Pratt, l'ha sempre detto, ora, ovviamente, appunto, con internet, tutto diventa molto più semplice, a volte, molto spesso, immagini prese da internet, vengono semplicemente, siccome si lavora molto sul computer, non si lavora più sulla carta, come faccio io, a me non piace lavorare sul computer, cioè, il computer lo odio, è un po' stanco, e quindi, no, ovviamente, Masa, tutte le divise, ovviamente, le divise della Prima Guerra Mondiale, gli ufficiali di Marina, della Prima Guerra Mondiale, i summergibili, da Prima Guerra Mondiale, io c'ho dei volumi, li tiro fuori, perché, è ovvio che tutto questo, comunque, è un lavoro di fino, pensate, ricordo, scusate, ricordo, che quando, leggete da Supereroe, tutti questi volumi, erano fatti negli anni 50, o 60, quindi, negli anni 50-60, dovevi andare a cercare, di vista su questo, questa è una cosa, ho preso al libraccio, ho preso al libraccio, le armi, insomma, anche le armi, questi sono i cosacchi, del Don, i cosacchi d'Armata Rossa, cioè, dovevi trovarti tutte queste foto, e poi, ovviamente, dovevi, è un po' come, cioè, è un lavoro, quello del fumettista, è un lavoro ingrato, perché dovevi cercarti tutta sta roba, dovevi sapere un po' di anatomia, quindi l'atomia, poi, quando avevi la divisa, creavi il soldatino, eccetera, eccetera, anche i soldati di Don, abbiamo giocato con i soldatini, per quanto, io ero una grande appassionata, da bambino di soldatini, da bambino giocavo con i soldatini, pensate un po', da quale epoca preistorica vengo, che vi devo dire, no, questo ve lo consiglio, ovviamente, i disegni sono rimpiccioliti, Masa, è purtroppo Masa, così, capite che, ho capito, ho capito, proprio il 790, che buono, ragazzi, missioni segreti, cacciatori, che ti ha avvenuto, però, c'è anche te, le ricorruzioni delle copertine, e sono storie, a me mi hanno molto avvinto, ecco, di solito, gli spin off, non sono la mia passione, però, questo spin off, appunto, per se è letto, come tre storie, di Martin Misteri, quindi, veramente, affascinante, anche perché, poi, ho visto, gli uffici segreti, della Gestapo, anche qui, Wolfarch, Wolfarch, ha una sorta di, di aiutante, che, ha gli archipo tedeschi, gli archivi, io sono, un fenologo classico, e c'è un aiutante, che lo aiuta, l'aiutante che lo aiuta, è bellissimo, ricorda molto Martin Misteri, ma, secondo me, questo qui, che, questo signore, che gli dà, tutte le informazioni, o come si chiama, l'archivista capo, signore archivista capo, eh, vabbè, ovviamente, in questa storia, ovviamente, la, la Francia è occupata, gli americani, non hanno mai liberato la Francia, eccetera, eccetera, insomma, fate voi, naturalmente, io la bozzerei qui, una storia, che vi straconsiglio, anche perché sono nove, e dieci, un quarti, poi, devo fare altre cose, devo, devo fare altre cose, devo fare altre cose, tipo, andare a letto, domani, un altro lunedì, giovedì, perché lì, c'è uno sciopo per le donne, tranne quelle brevi, che quelle non contano, lo sapete, ora, voglio vedere, domani, dottor Formazio, chi manifesta per le prigionieri di, di, di Hamas, voglio vedere, voglio vedere, i cartelli, ci saranno liberate, le prigionieri, e va bene, per questo, alla fine, io mi leggo fumetti, con i gazzisti, a fine, ma, mi abito, mi abito, perché prima o poi arriva, ma io sono sicuro, che mi vengono a cercare, e dice, ah, non sono neanche tedeschi, non sono neanche più tedeschi, e va bene, ma l'altra storia, va bene, va bene, no, viaggio, però, la storia, per chi ama Castelli, per chi ama Martini Misteri, secondo me, questo è un volume, poi, Nolende, è un grandissimo sceleggiatore, noi, ora, tutto il petto, appunto, gli zagoriani, non ci sentono, c'è lo zagoriano, lo zagoriano, dietro, lo zagoriano, con una lascia, superman, no, ma per carità, sono storiucce, carucce, ma, insomma, no, ma, nel senso, a me, può interessare, vedere un po' la tecnica del fumetto, può interessare, vedere come vengono rifatti, i disegni di ferri, va bene, tutto interessante, però, cioè, queste, capisci, hanno una sostanza, cioè, queste sono storie, comunque, che, per esempio, qui, a un certo punto, ci sono vari riferimenti, Wolfhard, prende il nome, Wolfhard, prende il nome di Daniken, Daniken è quello che, tedesco, anche lui, che ha scritto tutti i libri, si cita, ma hanno scritto Boionic, cioè, si cita un sacco di cose, insomma, cioè, noi, ripeto, veramente, in Francia, uno come Nolenzo, lo portano in palmo di mano, noi Castelli, un po' così, come se fosse, oh, Castelli era tanta roba, noi ce l'abbiamo più di Castelli, perché scrivere tutte le storie di, cioè, di fantarcheologia, è un po' complicato, perché, qui cita, mi ha scritto Boionici, eh, insomma, tanta roba, insomma, io ci feci un video, un po' di anni fa, Daniken se ne occupa, mi ha scritto Biologici, la storia sbagliata, insieme al suo ultimo libro, che lui c'è da 80 anni, con Daniken, c'è il nome, tutto il programma, e quindi, cioè, difficile scrivere storie, ben documentata, cioè, è ovvio che è fantarcheologia, ma non puoi dire che i sumeri, giocavano a briscola, a scopone scientifico, con Napoleone, insomma, cioè, fantarcheologia, fino a un certo punto, poi puoi far incontrare un sumero, con Napoleone, puoi far, però ci deve essere, una storia che regge, e Nolen, è in grado di farla, poi con i disegni di Masa, che è tanta roba, anche le copertiche sono molto belle, in finale, ci sono le storie classiche, del Wunderwaffen, quella serie Wunderwaffen, che ovviamente, sono quelle che sono uscite, è ovvio che hanno delle serie, questa, i megli alieni, che arriva, non so, su Hitler, eccetera, ma, naturalmente, ripeto, il frumento franco-belga, richiede una, cioè, il frumento franco-belga, ritengo il frumento, un'opera d'arte, non è più, nemmeno, come un romanzo, quindi, non è che loro fanno il frumetto, diciamo, per bambini scemi, o diciamo così, no, il frumetto può essere anche una cosa di profondo impegno, cioè, questa cosa che i franchi, e io, guarda, li dirà, sicuramente a un francese, ma sono sempre per questioni palestinesi, cristinesi, ok, però, vabbè, lasciamo perdere, ma, ma, dicevo, no, però i francesi, io rindo, diamo, a Napoleone, anche se Napoleone era proprio francese, loro ritengono, un fumetto, un'arte, cioè, nel senso, non è che ritengono sia un bischero, ritengono che sia un grande scrittore, tra l'altro, non è anche i libri, i romanzi, cioè, le due cose non sono così, cioè, di solito, da noi, chi fa fumetti, fa fumetti, e chi fa i libri, fa i libri, ma le due cose, non c'è, nel senso, io posso scrivere una storia a fumetti, e una storia a libri, o me la illustro io, cioè, perché molti non fanno i fumetti, perché disegnare, tutta sta roba, c'è Masa, c'è Masa, guardate che cavolo che si è fatto, ma, se non so disegnare, ma se fosse, cioè, addirittura, il fumetto, è un qualcosa in più rispetto al libro, perché ci mette, oltre al linguaggio scritto, ci mette anche, il linguaggio grafico, quindi il fumetto, addirittura, in un mondo dove la gente fosse meno cogliona, dovrebbe essere considerato in più, perché, pensate a tutto Coprates, andava a cercare le riviste di divise, perché faceva un uovo cortomaltese, era ambientata anche lui nel 1918, quindi, la guerra, prima ancora la guerra russo-giapponese, tutte le divise, che mica potrebbe poi inventare a cazzo di cane, cioè, devi fare, come sono le divise dei soldati russi, e questa, devi guardare come erano fatte queste, vabbè, questa è una, una, una sorta di mitragliatrice sovietica, aveva trasformato una carrozza, ce l'ho piattato sopra, va bene, quindi tutte queste cose, te le devi cercare, divisa russa, del 1918, della guerra civile, dell'esercito cosacco, del, del, di Trotsky, vediamo un po', soldato russo di quei tempi, se lo trovo, anche le armi, se le armi, sì, vabbè, poi nessuno va a controllare, se c'è, vabbè, un fucile te lo puoi anche inventare, però, alcuni, per esempio, come Magnus, erano molto pignoli, c'è, nel senso, c'è gente, ha fatto i fumetti, in maniera molto pignola, nel senso, molto, vabbè, quindi, questo è un buon fumetto, se lo potete leggere, leggete, io, a me la Cosmo, non mi paga, io, la Cosmo, mi deve fare un premio, perché, ovviamente, questo mese, mi sono dedicato più alla Cosmo, la Boneglia, appunto, ho preso di Van Dog, però, dovrebbe uscire, è nata a neve, ma, insomma, però, prenderò Tex, Tex, sì, perché è un vecchio, cioè, Tex, Tex, Mazzago, Super Chico, no, Super Chico, Super Mike, buon, non lo so, stiamo al, che giorno è oggi? Al 6 marzo, non ho ancora comprato, in senso, non ne sento, proprio, la mancanza fisica, poi, magari, mi viene un momento di credo, compro, però, il fatto che, all'uscita, non abbia sentito, tutta la surgenza di comprarlo, sembra di qualcosa, poi, naturalmente, ripeto, e chiudo, io, non compro il fumetto, per fare i video, perché, poi, me lo succio, io, il fumetto, scusate, poi, mi occupo a spazio in casa, quindi, questo, anche, molti di aboli, che viene libero, dopo un po' che l'ho letto, questo è un po' so bello, ma, altri no, nel senso, fumetto argentino, no, però, voglio dire, avere tutta la sala di supermai, di Moreno Burattini, ma, non è che, proprio, boh, se ne potrei anche fare a meno, allora, magari, compro uno zagolo antico, però, perché, nel senso, ripeto sempre, io, non è che voglio fare, cioè, se ho parlato anche, piuttosto male, di alcuni numeri zagolo, era semplicemente, perché, mi dispiaceva, se il personaggio, venisse un po' così, però, non è che insisto, inciucio, nel senso, che, se io abbandono, ripeto, io, non è, non me ne frega nulla, di geni, cioè, di geni, sì, chi se ne frega, può far morire un personaggio, far risorgere, ma è quello il punto, il punto, per me, di un fumetto, è che la storia, mi deve avvincere, poi, vabbè, moriciclo, non si può far morire, ma è quello il punto, se le storie, mi diventano, una sorta di, il rosario alla messa, e allora, no, senza, allora vado alla messa, io vado alla messa, e faccio il rosario, e poi, la cosa, il fumetto, deve essere, un momento di svago, se il fumetto, non fa dei coglioni così, ne fa anche a meno, e con questo passo, e chiudo, questa è la mia, conclusione, questo invece, è un fumetto, che sebbene sia, di difficile lettura, ecco, non è un fumetto, di facile lettura, l'ho perso, e vabbè, l'ho perso, faccio, io riesco, io sono un fumulista, riesci a perdermi, in un bicchier d'acqua, ma anche in un bicchierino piccolo, e quindi, io, se devo leggere un fumetto, ci devo trovare del suo, se non ci trovo il suo, è tanto per leggere Zago, perché lo leggevo dal ragazzino, ma no, chi se ne frega, se non ho queste cose, prustiane, assurde, cioè, nel senso, è ovvio che è arrivata una certa età, sì, se vedo Godzilla, 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 ma Zinga, mi commuovo, va bene, ma non è che ho questa sorta di culto, anche perché la mia infanzia, è stata veramente schifosa, da una parte, la morte, non mi spaventa, per un semplice motivo, molti sono terrorizzati alla morte, io sono più terrorizzato dal mio passato, dal mio futuro, la mia infanzia mi ha rovinato tutta la vita, veramente, e allora, di cosa dovrei avere paura, di quello, c'ho paura, c'è quello che ho avuto prima, è talmente, che quello che verrà dopo, non me ne frega più niente, ormai è andata così, se c'è la rincarnazione, vabbè, mi rincarno, se non mi rincarno, vado, però, non ho paura, quindi, non ho questa ossessione del passato, riscoprire, certo, anch'io da bambino, mangiavo pane e Nutella, e guardavo santo, ma va bene, ma non è che poi, vabbè, però sto un po' divagando, come al solito, poi la secchiude, però dicevo, per me il fumetto, mi deve da qualcosa, mi deve da qualcosa ora, se il fumetto mi da qualcosa, è ovvio che se rivedo, la cosa, io non mi fai la cosa, mi piaceva morire, questo è tutto strange, questo è proprio, quando te fai, e parti, questo è proprio psichedelico, vabbè, e quindi ci devo, anche, c'è un viaggio psichedelico, il dottor Strangelo, può volentieri, ma, tanto il ciclo e il zago, che mangia il pollo, ma qui abbiamo divagato, alla grande, passo e chiudo.